Coriandoli di Olimpia Ruiz di Altamirano Tre coriandoli aprono gli occhi. Riuscite a vederli? Shhh! Parlano tra loro. Ascoltiamo cosa dicono. Che noia! Non succede mai niente. Zitti, zitti, chi arriva? Chi arriva? Mi falso all'etico, dice un coriandolo. Shhh! risponde l'altro. E all'improvviso tutti si ritrovano a volare. Yuuu! Gridano. Sembra divertente. Oh oh! Se si vola senza ali, si rischia di... cadere! Aaaaaaah! Strillano adesso i coriandoli. Che colpo di fortuna! Sono atterrati proprio sulla testa di un bambino. Buonasera, come va? Prova a fare amicizia il primo coriandolo. Tanto non ti sente! Gli risponde il secondo. Guardate! Grida il terzo. Si riparte! Seguitemi! Dove finiremo? Questa volta i coriandoli cadono ancora più giù. Scendono, scendono, fino ad arrivare in un posto caldo e morbido. Cosa sarà? E' un cagnolino! Dice il primo, felice. Che dolce! Esclama il secondo. Attenti! I cani cercano sempre di... Prova ad avvisare il terzo, ma non fa in tempo a finire la frase. Cosa fanno sempre i cagnolini? Cercano sempre di leccarti. E questo è un bel problema se sei un piccolo coriandolo. Presto, andiamo via! Venite! I tre coriandoli scendono a terra. Ma anche lì non possono stare tranquilli. E adesso che succede? Dicono. I coriandoli finiscono in un posto strano e buio. Dove siamo? Chiede un coriandolo spaventato. Non lo so! Risponde l'altro. Mi sembra che ci stiamo muovendo. Dice il terzo. A voi cosa sembra? Una mano li prende ancora una volta e li fa cadere. Dove finiranno? Ehi, dove andate? Aspettatemi! Grida il coriandolo che è rimasto indietro. Corri, vieni, è bellissimo! Rispondono gli altri in coro da lontano. Meglio affrettarsi. Wow! Gridano i coriandoli. C'è la colla, ci sono i colori e i fogli. I coriandoli. I coriandoli sono super felici. Dicono. Stiamo per diventare un'opera d'arte. Guardate questo pesciolino. È fatto tutto di coriandoli. E dove sono finiti i nostri tre amici? E adesso tocca a voi. Chi ha voglia di fare un'opera d'arte? Al lavoro! Sono piccoli, sono di carta e sono molto, molto colorati. Chi sono i protagonisti di questa storia? Coriandoli!